benvenuti io sono il cencio e questo è un nuovo episodio di silent hill 2 remake nella scorsa puntata abbiamo completato quella sessione all'interno delle strade di silent hill per vase dall'other world una una sessione molto giocosa molto incentrata sul combattimento fin troppo forse ma quello va beh ci sta alla fine è una fase non c'è nulla da ridire e ci stiamo dirigendo verso la silent hill historical society dove sappiamo bene quello che ci aspetta è una delle parti peggiori del gioco ma c'eravamo lasciati all'interno qui del pittorama del bowling dove nel silent hill 2 originale si incontrava nuovamente eddie e laura qui invece le cose sono cambiate perché le abbiamo incontrate nel cinema una location nuova che non era presente nel gioco originale quindi voglio vedere se c'è qualcosa in serbo per questa location di speciale se c'è qualcosa di particolare per noi da vedere perché era un un posto molto bello questo non importante ma bello le uniche scarpe che ci sono sono scarpe numero 13 anche queste sono 13 il biliardino ma è un biliardino tarocco cioè il portiere ha tre umini ma che storia ma che sti americani non sanno neanche giocare a biliardino oh la pizza di eddie ora qui ci farà tu 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 perché si trovava qui eddie a mangiare la pizza vediamo eh era il nostro amico eddie amico per modo di dire perché 7 7 7 4 io mi vuoi dire che qui è vuoto adesso oh guarda guarda ma che belle queste sono foto reali eh ragazzi questi sono questo è qualcuno del team di sviluppo che con la coppa ma non si riconosce bene già è difficile per me riconoscere gli asiatici poi così tutta sporca tutta è questi sono i ragazzi del team di sviluppo sicuro che se sono fatti le foto mentre che giocavano ci scommetto guarda no che buio comunque si è un pavimento bagnato noi corriamo lo stesso giusto per vedere questo sembra proprio tipo il classico posto dove metterei una di quelle foto collezionabili lì che non abbiamo ancora capito bene se nascondono qualcosa se ci vogliono dire qualcosa o meno invece mi sa solo proiettili che tra l'altro siamo a 379 colpi ma è probabile che tutti questi colpi facciano una brutta fine shotgun mamma mia 42 siamo armati fino ai denti ok siamo usciti nel retro quindi no non c'è assolutamente niente nel bowling questa volta solo un vago ricordo di assolutamente niente così allora noi abbiamo trovato anche tipo il eccolo qua la leva del martinetto da garage e la chiave della società storica non abbiamo nient'altro quindi o c'è qualcosa tipo che possiamo aprire qui intorno con con la leva queste lattine dal motuo perpetuo sono un po' particolari devo dire volevo vedere la targa oh attenzione mannaggia delle ombre f f432 matt 1128 qui devo fare una cosa che normalmente non si fa però però io la faccio lo stesso perché sono sono quindi io che cosa ho fatto adesso voi non lo vedete ma io ho appena tabbato e sto googolando per la precisione matteo 1128 perché secondo me questi sono passi della bibbia che potrebbero avere un un'importanza per noi queste cose io di norma le faccio per i fatti miei no quando vi porto le serie però qui siamo in in blind run quindi non posso prepararmi le prima perché non so quello che mi aspetta eccolo qua matteo 11 28 venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò prendete poi continua con il 29 prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime continua con il 30 il mio gioco infatti è dolce e il mio carico leggero beh non è un caso ragazzi perché io ora vi ho letto matteo 11 28 29 e 30 ma quello che ci interessa a noi è matteo 11 28 quindi venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò non ho idea di chi sia quest'automobile non ne ho idea sinceramente a meno che non troviamo qualche dettaglio vediamo un po' vediamo se dentro c'è qualcosa vandalizziamola un attimo non c'è nessun dettaglio che possa indicarci il proprietario probabilmente è solo un'auto generica di cui l'importanza sta solamente nella parte della bibbia sta solo lì perché ragazzi venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò è praticamente quello che sta succedendo qua a Silent Hill no? vi ricordo che spoiler in cami vi ricordo che tutti i protagonisti di questo videogioco tranne Laura perché è una bambina è priva di colpe è pura e Maria che sostanzialmente non esiste è una creazione della mente di James sono tutti colpevoli o più che colpevoli come vi ho già detto si sentono colpevoli perché qui non c'è nessun giudizio universale capite? non c'è un un deus che è qua a giudicare le colpe di questi protagonisti il giocatore se vuole può farlo voi potete arrogarvi il diritto di mettervi lì e giudicare queste persone giudicare se James è colpevole per quello che ha fatto di uccidere la moglie morente di malattia che lo stava mandando letteralmente fuori di testa di giudicare Angela che ha ucciso il padre sebbene lui la violentasse praticamente quotidianamente potete giudicare Eddie che ha sparato nella gamba al suo bullo che lo picchiava tutti i giorni e gli ha ammazzato il cane se vi sentite in grado di giudicare queste cose siete liberi di farle ma il gioco non giudica Silent Hill 2 non giudica nessuno e sono loro che si sentono in colpa per quello che hanno fatto James muore letteralmente a livello interiore per quello che ha fatto alla moglie Angela comunque va da uccidere il padre sebbene è un mostro di padre ma è comunque un padre la colpa la sente e lo stesso Andy sente il peso delle azioni che ha commesso quindi è un po' come almeno come la vedo io su due piedi e senza approfondire senza informarmi troppo perché poi sarebbe molto bello leggersi un po' tutto Matteo perlomeno la parte più interessante di questo versetto sarebbe importante leggersela un po' tutta perché abbiamo visto che già dal 28 al 30 di carne al fuoco se ne mette ma la parte importante venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò è come se Silent Hill questo fosse un po' una chiamata di Silent Hill è la prima cosa che mi viene in mente mentre invece qua abbiamo un F F 432 questa cosa mi è venuta in mente perché sono stupido a non pensarci prima che sarà? 432 gli efesini andiamo a vedere oddio ma questa è una Bibbia un po' riveduta però vediamo che dice questo se ha senso se no vado a cercarla nella Bibbia vera e propria allora gli efesini 432 siate invece gli uni verso gli altri benigni misericordiosi perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo beh anche questo anche questo si applica praticamente a tutti se vogliamo no? siate invece gli uni verso gli altri benigni misericordiosi perdonandovi a vicenda si applica a chiunque James doveva essere benigno e misericordioso verso Mary perdonandola per le sofferenze che gli ha causato perché qui ricordiamoci una cosa ricordiamoci una cosa ragazzi intanto cerco anche in una Bibbia magari non questa perché questa è una Bibbia un po' particolare no no non è stato modificato ok anche nella Bibbia originale è sostanzialmente così dicevo non scordiamoci una cosa perché uno dice ma James che giustificazione ha di questo cioè che cosa dovrebbe perdonare a Mary James beh non è solamente un discorso l'omicidio che si è si è compiuto qua nella storia di James ve lo ricordo non è semplicemente perché Mary era malata lui doveva occuparsi di lei della sua salute di tutti i suoi bisogni si è scocciato ha detto ma io questa qua la ammazzo vaffanculo capito e mi tolgo un peso e non c'ho più da pensare a questa palla al piede che mi sta impedendo di vivere non è andata proprio così noi sappiamo appunto che Mary oltre alla sua malattia che ha iniziato a logorarla a distruggerla fisicamente ha avuto anche un potentissimo crollo psicologico Mary è sbroccata come succede spessissimo ai pazienti in fase terminale perché è una cosa difficilissima da sopportare il fatto di sapere che stai per morire e non ci puoi fare niente è un qualcosa di struggente che spesso ti manda fuori di testa ma anche quando non ti manda fuori di testa comunque ti mette addosso un carico di ansia paura rabbia e frustrazione enorme soprattutto rabbia e frustrazione proprio per l'incapacità di risolvere la tua condizione perché tu sai che morirai e non puoi farci nulla capite non c'è niente che tu possa fare e non è facile accettare questa cosa perché uno vorrebbe provare vorrebbe tentare di dire ma magari provo a fare quello provo a fare quell'altro ce la posso fare quando sai che ormai è andata non c'è più niente che tu possa fare lì arriva la rabbia perché uno dice perché perché a me perché proprio io devo subire questa cosa e la rabbia e la frustrazione poi ti si annidano dentro e gonfiano gonfiano crescono 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 e piano piano poi vengono inevitabilmente riversate sulle persone che hai più vicino perché sono le uniche le uniche valvole di sfogo che hai e quindi Mary in tutti gli effetti stava effettivamente rendendo la vita di James un inferno non solo perché James la doveva accudire non solo perché James doveva curare Mary ma proprio anche perché Mary lo trattava malissimo lo offendeva gli sputava veleno che è come abbiamo visto questa bellissima metafora delle line figure che fanno questa svomitazzata questo spruzzo di acido che è un po' appunto la metafora del veleno quando si dice sputare veleno quando dici veramente cose cattive che fanno molto del male alle persone che le ricevono e questa cosa a lungo andare ti distrugge psicologicamente capite perché non solo io metto in pausa la mia vita per te cioè non solo io non procedo più con la mia esistenza non posso mandare avanti il mio lavoro la mia vita privata le mie amicizie i miei divertimenti l'amore niente proprio tutta la mia vita si blocca per star dietro a te che stai morendo quindi anche un po' diciamo se vogliamo essere cinici anche un po' tutto inutile ripeto se vogliamo essere cinici ma nel mentre che tu fai questo sacrificio tu in cambio cosa ricevi? dolore cattiverie capite? sputazzate di veleno questa cosa ti manda fuori di testa può mandarti fuori di testa è una cosa molto 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 difficile da sopportare è una cosa che ha portato James all'esasperazione ma ripeto è una la bellezza dietro alla storia di Silent Hill 2 sta proprio nel fatto che la motivazione il motivo dietro all'omicidio di Mary è molto complesso come tutti gli omicidi è rarissimo che un omicidio si faccia alla leggera ok? può succedere ma è raro il caso di James è molto realistico ci sono tantissimi fattori da tenere in considerazione per il movente del perché cosa ha portato quest'uomo ad uccidere sua moglie ci sono tantissimi fattori e non è facile giudicarlo e quindi vediamo qua siate invece gli uni verso gli altri benigni misericordiosi perdonandovi a vicenda poi ovviamente come anche Dio vi ha perdonati in Cristo ma questo in questo caso non ci interessa perché non è un gioco molto religioso Silent Hill 2 al contrario del primo che è molto più pesante dal punto di vista della religione il 2 ci è andato molto più leggero anche se ha mantenuto come vedete qua questi collegamenti ma si applica anche ad Angela si applica a tutti si applica ad Angela perché anche lei poteva essere benigna misericordiosa e perdonare il padre ma anche a Eddie anche lui poteva essere benigno misericordioso e perdonare il bullo tutti quanti tutti quanti si applicano si applicano veramente a tutti ma questo furgone invece non c'ho modo io di entrare magari vedere qualcosina in più di chi potrebbe essere non c'è magari un'altra porta sul retro di qua dovevo guardare bene le targhe di tutte le macchine fino ad ora non mi è venuto in mente ma questo ovviamente sono le da qui si passava per il retro ma è bloccato ok no niente non si può vedere quindi queste sono le classiche cose da blind run ragazzi perché ti vengono in mente piano piano un po' per volta ti viene in mente ah vediamo questa cosa poi vediamo quest'altra poi vediamo quest'altra e scopri sempre più robe che poi metti insieme i tassellini metti insieme i pezzettini e scopri veramente cose molto interessanti per esempio adesso che ho visto questa roba qui potete star certi che controllerò ogni singola targa di ogni singola macchina che troverò tipo olè questo è di nuovo Matteo 1128 l'abbiamo già vista quindi può darsi che non siano legate vedete a persone specifiche ah non si può passare neanche da qui peccato non siano legate a persone specifiche ma sono un po' un generico rimando alla situazione che i vari personaggi stanno posso sfondare i vetri qui forse no perché entrerei comunque dentro al bullying sono un generico rimando alla situazione che stanno subendo tutti i vari personaggi molto molto bella questa cosa e ho visto quello lì mi sono venuti in mente gli efesini poi ho visto questa Matt ok Matteo in che direzione stiamo andando perché sono un po' perso ah ok stiamo andando direttamente alla società storica di Silent Hill fatemi rimettere a posto qua ok me la chiudi questa mappa grazie James oh attenzione no questa è una targa normale pad 155k questa non ha senso almeno che io sappia 155k oppure potrebbe essere pad 15k ma il k finale non ha senso non si usa nella bibbia no non si usa nella bibbia non la cerco nemmeno questa perché che io sappia il k finale non sta a indicare proprio nulla non si usa rieccola 11-28 però strano che quelle si e questa no però ce ne sono diverse doppione proprio rimesse lì chissà quella di James ma mi pare che la targa di James fosse una targa normale tipo questa fatemi provare una cosa veloce tanto ormai sono qui vi ho altabbato già diverse volte quindi vediamo un po' ma io non ha senso no 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 assolutamente come come sospettavo non ha nessun senso è una targa non ha a che fare con la bibbia perlomeno poi magari se ha a che fare con qualcos'altro non lo so ma con la bibbia non credo proprio che abbia a che fare quanto posso andare avanti giga computer for eh vai a capire baby and kids superstore silent till fresh meats mamma mia ma quanto possiamo andare avanti eccolo punterotto oh 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 i can live by not living i can only live by not living quindi posso andarmene senza andarmene posso andarmene ah posso andarmene se resto posso andarmene solo se resto sì vabbè posso andarmene se non me ne vado a senso abbiamo un manichino una line figure birichina dietro di noi anche questo il posso andarmene solo se resto no posso andarmene senza realmente andarmene è è è un manichino che è stato malmenato da dal nostro amico testolina è ovviamente un pensiero di james no perché può andarsene solamente rimanendo affrontando le sue paure le sue colpe i suoi sensi di colpa solo in questa maniera potrà veramente scappare perché non puoi scappare dai tuoi problemi questa è un'altra cosa bellissima che silent hill 2 più di ogni altro silent hill anche se è un tema molto ricorrente in tutti quanti silent hill ci insegna non si può scappare dai propri problemi non si può scappare dalle dalle proprie colpe dai propri sensi di colpa li devi affrontare per forza e solamente dopo averli affrontati sarai veramente scappato perché loro tanto ti inseguono non importa quanto lontano corri sono dentro di te quindi sta leva del martinetto se questa secondo me è per aprire qualche indietro per aprire qualche tipo saracinesca qualcosa per ottenere oggetti vari penso inquietantissima come al solito subito appena si entra gli orologi tutti 9-10 minuti e 15 secondi che c'è scritto è copiato anche qua quindi non credo abbia una grande importanza a brief history toluca lake a brief history of toluca lake ok sono tutte guide turistiche che bello che è molto museo ok perché ce lo fai vedere con attenzione questo è un tavolo con cos'è quella una cassa un librone una due tre quattro cinque finestre non saprei è molto vago e generico li possiamo ammirare tutti però con attenzione la signora della luce l'inaugurazione di una delle due statue che ricordano la leggenda del luogo ah la baronessina little baroness the maiden voyage del 1916 piccola baronessa il viaggio inaugurale del 1916 questa è una nave che conosciamo che se non sbaglio veniva approfondita in silent il 4 se non ricordo male o nel 3 ma mi pare nel 4 oh toh pallini no the new clock oddio volendo ce n'è uno però l'orologio nuovo è la numero 17 questa si scoccia James quando non si aprono le porte questi ovviamente cioè li vede solo lui non è che wise coal mine established around 1850 it remains operational until the early 90s the mine played a key role in the revitalization of silent hill miniera di carbone di Wilze nata intorno al 1850 rimase in funzione fino ai primi del novecento la miniera svolse un ruolo fondamentale nella rinascita di silent hill è proprio lui misty day remains of the judgment giornata nebbiosa resti del giudizio tutti quelli in gabbia title unknown author unknown titolo sconosciuto autore sconosciuto è un calice con un serpente arrotolato la tentazione se James ha avuto problemi di alcolismo come ci è stato fatto intuire lì al al night seven ci sta serpente è spesso simbolo associato alla tentazione per via della della metafora di Adamo e Eva del serpente che tenta Eva a prendere la mela eccetera eccetera quindi il serpente da lì ha ereditato un po' il simbolo della tentazione del tentatore oh 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 waterfront landscape allen smith date of birth and death unknown a depiction of the local area the style indicates it was done sometimes around 1820 when the region was far less populated with sparse infrastructure però non c'è il quadro davanti al lago allen smith data di nascita e morte sconosciute è una raffigurazione del territorio della regione dallo stile si evince che è stato dipinto intorno agli anni 20 del 1800 quando la regione era molto meno popolata le infrastrutture scarse però non abbiamo modo di vederlo possiamo passare sia di qua che di là e si sbuca sempre nella stessa stanza ok ah questa la conosciamo bene oddio ragazzi io spero che ci facciano esplorare l'isola nel lago ve lo leggo direttamente in italiano perché questa la conosco oddio in realtà dovrei leggerla anche in inglese perché magari potrebbero esserci robe nel mezzo però è parecchio lungo tra le leggende del posto c'è quella della signora della luce narra di una donna che fu accusata e dichiarata colpevole di stregoneria per punizione fu portata su un'isoletta del lago una minuscola striscia di terreno roccioso senza cibo né riparo lì sarebbe dovuta morire di una morte lenta e straziante soccombendo al freddo e alla fame tuttavia all'insaputa degli altri abitanti della città c'era tra loro un giovanotto che dopo aver posato lo sguardo sui suoi occhi splendenti e incantevoli come la luna di mezza estate le aveva giurato amore eterno quando fu accusata ingiustamente e gli credeva giurò che non avrebbe mai permesso che subisse un simile destino aspettando un'occasione per fuggire con la sua amata ogni notte usciva di nascosto e attraversava il lago remando portando le cibo e coperte per tenerla al caldo e ogni notte la donna rimaneva lì sulla riva con in mano una candela accesa per aiutarlo a trovare la strada ma poi una notte in cui nel cielo non c'era nemmeno una nuvola il giovane partì per la sua scappatella notturna scrutava in lontananza come di consueto cercando nell'oscurità la luce che l'avrebbe condotto dalla sua amata quella notte tuttavia la luna splendeva più intensamente di qualsiasi candela ingannato dal riflesso della luce nell'acqua il giovane finì per sbagliare strada remò e remò seguendo la luce riflessa sperando disperatamente di poterla raggiungere era talmente ipnotizzato da quella luce illusoria che non badava né alle braccia indolenzite né all'affanno che aveva nel respirare quando la barca infine si ribaltò l'uomo era ormai così esausto e le braccia così indebolite dopo aver remato che non fu in grado di tornare a riva l'acqua divenne dunque la sua tomba sebbene fosse rimasta sola la donna sull'isola non perse mai la speranza continuò a uscire di notte e ad accendere la candela secondo la leggenda chi è in cerca del vero amore può ancora vedere la luce della signora sulle acque del lago che brilla per ricondurre a casa il suo amato benché la leggenda sia stata concepita come una metafora e un ammonimento si può affermare che sia in parte basata sulla realtà nell'area ci sono state infatti diverse persecuzioni religiose come quella di e non sapremo mai quale molto molto bella questa storia che tra l'altro ha un senso anche molto importante per James perché noi iniziamo questo viaggio se vi ricordate James è qua per cercare Mary nel suo luogo speciale James ha pensato subito al parco dove potevano essere quindi James si è recato al parco che è il riva al lago da lì lui poi ha incontrato Maria costrutto della sua mente tutta una sua invenzione ha iniziato il viaggio con Maria inseguendo Laura o comunque altri posti che secondo Maria potevano essere il posto speciale di James e Mary ma in realtà noi sappiamo bene avendo giocato Silent Hill 2 tante volte che il posto di cui si parla è l'hotel di Silent Hill dall'altra parte nell'altra sponda del lago del Toluca Lake quindi effettivamente James guarda chissà se c'è la luce non ci ho fatto caso se ci poteva essere una luce lì però comunque guardando dall'altra parte quindi verso questa misteriosa isoletta dove dovrebbe trovarsi questa donna che accende la luce che accende la candela James avrebbe visto esattamente dove doveva andare per ritrovare la sua amata proprio ci sta a pennello questa 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 fiaba con la storia di James oh guarda qua Silent Hill Historical Society Founders ovviamente non c'è neanche un volto visibile fondatori della società storica di Silent Hill oh questo ci toccherà tra pochissimo non c'è un non c'è una descrizione questo è il buco dove ci tufferemo tra non molto mamma mia l'ingresso della miniera sembra proprio questa che no è un po' azzardato definirlo carbone questo former director of Brookhaven Hospital l'ex direttore nome raschiato illegibile ex direttore dell'ospedale di Brookhaven solid snake con il baffetto asiatico però molto giapponese il baffetto così il Brookhaven Brookhaven Hospital 1880 the hospital was built in response to a great plague that followed a wave of immigration to the area originally it was little more than a shack but a science expanded into a fully fledged medical establishment l'ospedale di Brookhaven 1880 questo ospedale fu costruito per far fronte a una grande pestilenza che seguì un'ondata di immigrazione in questa zona originariamente era poco più che una baracca ma divenne col tempo un'istituzione medica a tutti gli effetti ok è giunto il momento di scivolare nel delirio di James senti qua quindi Grazie a tutti. Mamma mia... Un vecchio radar? O un sonar? Un vecchio radar? No, però... Ci sono questa marca di sigarette che vediamo ovunque. Le Sean. Un... Null'altro. Prisoniero C... 221. Non mi dice niente. Mamma mia, mi ha fatto paura. Ok, è una line figure, è una line figure, è tutto a posto. Madonna, si è inquietante la prigione, ragazzi. Mamma mia. Noi siamo arrivati da qui. Vediamo di non perderci. Perché non abbiamo una mappa? Eh no. Ok, non mi devo perdere. Qui possiamo andare sinistra o destra. Destra vedo già un altro bivione. Qui c'era solamente la line figure. Madonna che bella che è la prigione. Crimson and white, banquet for the gods. Banchetto rosso e bianco per gli dèi. Le persecuzioni religiose che sono state fatte nell'area. Death by skewering. An execution at the prison. Death by skewering or strangling. To choose his death is the prisoner's last taste of freedom. Morte per infilzamento. Una sentenza di morte nella prigione. Morte per infilzamento o strangolamento. La scelta della propria morte è l'ultima prerogativa del condannato. Non è proprio l'ultima prerogativa. È più bello come scritto in inglese. È l'ultimo assaggio di libertà del condannato. Ti fanno scegliere se preferisci essere impalato. Non proprio impalato. Questo no. Non sono impalati in realtà. L'impalamento si faceva non per forza nel 100% dei casi così, però il palo si infilava dal sedere e se lo si faceva uscire dalla bocca. Quello era il vero impalamento. Questi sono proprio infilzati effettivamente. Però è sempre un impalamento. Non è quello classico. Toluca Prison Camp. Built in 1862. The camp was used to house prisoners during the American Civil War. Converted into Toluca Prison nel 1866. Campo di prigionia di Toluca. Costruito nel 1862. Ospitò i prigionieri nel corso della guerra civile americana. Divenne la prigione di Toluca nel 1866. Che era bella in superficie tra l'altro. Ok, da là sono venuto. Il buco. Ora, anche di questo ne abbiamo parlato, no? Già nella nostra serie qui su YouTube del Silent Hill 2 originale. Di questa costante discesa verso il basso. Avete visto la scalinata infinita per arrivare qua giù. Lunghissima. Adesso inizieremo a saltare in questi buchi. Questa ovviamente è una metafora del scendere in profondità. Ma non tanto in senso fisico come quello che stiamo facendo. Scendere ad una profondità sempre più elevata, sempre più profonda. Nelle viscere della terra di Silent Hill. Ma proprio nelle profondità della mente di James. Qui inizia la rivoluzione nella mente di James. Vera e propria. Vedete che roba che succede da ora in avanti. Voglio vedere proprio come l'hanno reso tutto quello che succederà qua. Vera, devi vedere proprio come l'ho organizato vedo la teresa della realtà. il pozzo possiamo rompere in ben in due punti 1 2 3 ok, facciamoci dal primo non c'eravamo nulla ok chissà se il terzo è sempre quello buono o se sono stato sfigato oddio la parte con l'acqua qui ci sono le line figure che non si vedono che strisciano nell'acqua eccole 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 ok Ok, non abbiamo scelte esplorative. No! Ah no, ok, pensavo che eravamo chiusi dentro. Una chiave. Dis, lead, death, chiave con scrittura spirale. No. Tis. Dis, lead, death, story. Ah, sarebbe bello vederla. Ok. I numeri quindi sono... Maledizione. Non ho tanto tempo per pensarci. Allora, potrebbe essere uno, cinque, sette. No. Quindi potrebbe essere... Mamma mia, otto, sei, quattro. Forse sono proprio quelli puliti. Due, tre, nove. No. Nove, tre, due. Nove, due, tre. Ok. Ma c'era un modo in cui avrei dovuto capire sta roba o... Bellissimo. Chiave con scrittura spirale, tra l'altro, che serve per aprire la grata, il cancello, così, del corridoio che va verso il basso, no? La spirale è una figura che, appunto, circola vorticosamente verso il centro, verso il basso, che va al punto, no? O che sta anche a indicare un qualcosa che è sprofonda, che va giù. Esattamente come quello che stiamo facendo noi. Oh, vai. 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 Ok, adesso siamo nella prigione vera e propria. Qui siamo nella mensa. Era qua che si leggeva di Walter Sullivan, mi ricordo. Bevandina. Mainline menu. 13 marzo. One grits with lard. Boiled meatloaf. Beans. Bread and coffee. Ok. Abbastanza ok. No, la tavolettina, quindi non servono più. Qua c'era un libro, mi ricordo. Ah, era questo. Era sul tipo morto. No, 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 no. No, 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 no. Solo mettere la palla in cuore e... Eddie? Oh, uh... Hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. He just came at me. Ok. So, he attacked you. And you shot him. Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Ok, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footstep, so I turned back and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you. I thought you said he came at you. Yeah, I mean, I could see it in his eyes. His eyes? He kept looking at me, making fun of me. And I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't, you can't just kill someone because of the way they looked at you. You should see your face, James. How did you do? The guy was dead when I got here. I got you, didn't I? Well, anyway. I better get going. Wait. You're gonna go out there, I'm blind? Yeah. Mamma mia, bellissimo il nuovo Eddie, bellissimo, è strepitoso. Il nuovo Eddie è meraviglioso, è meraviglioso. Qui comunque si trovava il libro che parlava di Walter Sullivan, della sua carcerazione. Non c'è più. Non c'è più. Quindi non è rimasto niente di Walter Sullivan, almeno per ora, non è rimasto niente a parte quel brevissimo articolo di giornale che abbiamo trovato al Woodside Apartment. L'hanno proprio un po' depennato. Non che fosse importantissimo nella storia di Silent Hill 2, però comunque aveva un po' più di presenza. Questo è morto da seduto. Quindi sicuramente non stava per saltare addosso a nessuno. Sicuro, sicuro. Poi magari è vero, eh, che era già morto quando Eddie è arrivato, però per esempio, fateci caso, è la seconda volta che becchiamo Eddie nelle immediate prossimità di un cadavere e lui che ti dice non sono stato io, era già morto quando sono arrivato. È la seconda volta. Questa è una cosa molto interessante perché non c'è una risposta, non sappiamo se effettivamente è stato Eddie a uccidere queste persone o meno. Poi vi dico la mia idea, eh, la mia opinione personalissima, la mia interpretazione personale. Non sappiamo, non c'è nessuna risposta se è stato Eddie a uccidere o meno queste persone. Quello che è importante e che è oggettivo, ok, quindi non è una mia opinione, è il perché in Silent Hill 2 troviamo spesso Eddie in concomitanza o comunque in immediata prossimità con cadaveri. di uomini maschi morti male, sempre, in un modo o in un altro. È Eddie che dice non sono stato io, l'ho già trovato così, perché abbiamo già parlato del personaggio di Eddie, del suo essere viscido, del suo essere codardo, di non riuscire ad affrontare faccia a faccia i propri problemi, ma neanche in grado di accettare le proprie responsabilità, ok? Perché un po' tutti quelli che sono qui dentro nella storia di Silent Hill non hanno affrontato le proprie responsabilità, perché un po' tutti hanno commesso dei crimini, due persone hanno commesso un omicidio, uno quasi, Eddie in realtà non si sa se poi è morto o meno il bullo a cui ha sparato una gamba, si sa solo che gli ha sparato una gamba, non si sa poi com'è andata, perché uno può dire ma la gamba mica si muore, porco Giuda, si muore come con un proiettile in una gamba? Ci sono delle arterie molto grosse e molto importanti all'interno della coscia e se il proiettile le recide, si muore dissanguati a una velocità pazzesca, proprio tranquilli tranquilli, è molto facile sparare una gamba, cioè un proiettile in una coscia molto facilmente ti uccide, molto facilmente, senza contare poi lo shock e tutto quello che poi ne consegue a ricevere un proiettile di arma da fuoco, ma insomma è molto facile morire sparando una gamba, quindi non sappiamo se il tizio è sopravvissuto o no a quel proiettile su una gamba. Però comunque vada, tutti si sono un po', dato che sono liberi e nessuno è stato arrestato, tutti si sono un po' dileguati, tutti hanno evaso le proprie responsabilità da assassini. James è in libertà dopo aver ucciso la moglie, Angela è in libertà dopo aver ucciso il padre, Eddie è in libertà dopo aver ucciso un cane e è sparato in una gamba a una persona che non sappiamo se è ancora viva o se è deceduta per la ferita. Quindi insomma, ok, tutta gente che ha evaso le proprie responsabilità, ma è di più di ogni altro è quello che è scappato. Quello che si sa effettivamente nella lore, io devo dargli da bere a sto qui perché quando inizia a scappocciare così è fastidiosissimo, quello che si sa nella lore di Silent Hill 2 è che Eddie, preso non potendone più dagli abusi subiti dal suo bullo, gli ha sparato al cane, il tizio è uscito di casa, il cane è fuori casa, gli ha sparato al cane fuori casa, gliel'ha ammazzato, il tizio è uscito sentendo lo sparo e probabilmente il cane guaire e Eddie gli ha sparato su una gamba ed è scappato. Capite? Non l'ha neanche affrontato fino alla fine, cioè ormai smattata per smattata, no? Almeno lo affronti faccia a faccia, no niente, manco quello, gli ha sparato una gamba ed è scappato. È proprio, no? Un non accettare le proprie responsabilità, è un fare le cose dietro le spalle, è un trovarsi sempre cadaveri intorno, ma non sono stato io, erano già così quando sono arrivato. Capite? Proprio la scusa quella classica, tipo che quando arriva la mamma, no? Entra in salotto, vede il vaso rotto, il figlio lì accanto, lui la guarda e gli fa, ma no mamma, non sono stato io con la palla, era già così quando sono arrivato. È proprio il class, la classica scusa infantile, non sono stato io, io sono arrivato, era già così. Un classicone. È questo con Eddie che può succedere, sia chiaro, anche noi, guardate, anche noi, anche James è arrivato qui e lui era già così, mica siamo stati noi, era già così. Se entrasse qualcuno in questa stanza direbbe, ma che fai, hai ucciso quest'uomo? No, era già così quando siamo arrivati noi, è vero o no? Era già così. Però con Eddie sta capitando un po' troppe volte, capite? Uno comincia a pensare, mi sa che non è un caso, mi sa che assolutamente non è un caso questa roba qua. Quindi è un rimarcare questo aspetto della psiche di Eddie. E poi ecco, volete sapere la mia idea? Volete sapere la mia idea su sta roba qui, oltre a tutta questa faccenda? Che è una cosa estremamente soggettiva, basata sulle mie opinioni, le mie interpretazioni, quindi potrebbe benissimamente essere completamente sbagliata. Il motivo per cui, aggiuntivo a quello che vi ho già spiegato, per cui troviamo spesso Eddie in prossimità di cadaveri, e lui dice sempre, ma non sono stato io, intanto ho sempre la pistola bella pronta, è sempre pronto a sparare a tutti e tutti, è appunto questa aggressività repressa, questa rabbia repressa, che lui da persona bullizzata prova nei confronti di tutti. Perché questa cosa io non ricordo quando ne ho parlato, ma ne ho già parlato qui sul canale di questa roba qua. È un'escalation emotiva molto comune nelle persone bullizzate, anche qui lo specifico sempre, non nella totalità dei casi, ok? Non nel 100% dei casi, ma in buona parte sì. Forse ne abbiamo parlato nel Silent Hill 2 originale, non ricordo. in cui all'inizio, quando si viene bullizzati, tu provi rabbia, tu provi frustrazione per non riuscire ad affrontare la persona che ti causa dolore, e la provi nei confronti, è diretta verso il diretto interessato, in questo caso il bullo. Ma con il passare del tempo, queste tue emozioni si amplificano sempre di più, e iniziano ad espandere nei bersagli, dal bullo che era all'inizio, iniziano a targettare anche, non lo so, i compagni del bullo, gli amici del bullo, quelli che magari stanno vicino a lui, stanno con lui, ma non ti fanno niente. Magari ridono e basta quando lui ti picchia, quando lui ti prende in giro, quando lui ti fa i dispetti. Loro se la ridono, non fanno assolutamente niente verso di te. I primi sono loro, poi dopo si espande anche per tutti gli altri che magari sono presenti e neanche ridono, anzi, magari sono dispiaciuti, hanno pietà di te, gli fa tristezza la scena, ma non ti aiutano, non partecipano, non intervengono in tua difesa, sono passivi. Allora anche verso di loro arriva la rabbia. E poi alla fine questa rabbia si espande verso tutto e tutti, e diventi una mina vagante in cui qualsiasi altro essere umano è colpevole delle tue sofferenze, semplicemente per il fatto perché tu soffri e lui no. Dopo diventa una roba del genere, si arriva ai livelli come negli Stati Uniti, in cui ogni giorno dispari c'è un ragazzino, per dire un giorno sì e un giorno no, c'è un ragazzino che piglia, sbrocca di testa, prende un fucile d'assalto, entra a scuola e fa una strage, a caso, la maggioranza delle volte, se ci fate caso, non sempre, ma questa è una cosa molto interessante che vi invito ad approfondire per i fatti vostri, io l'ho fatto perché lo trovo un argomento molto brutto, ma al tempo stesso molto affascinante, quello delle stragi scolastiche negli Stati Uniti, molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, questi ragazzi che compiono questi atti assurdi, li fanno completamente a caso, cioè non hanno dei bersagli specifici, alcune volte sono delle categorie di persone, tipo i membri degli sportivi, che sono un po' come vi dicevo sempre quelli nella gerarchia sociale dei ragazzi americani nell'ambiente scolastico, sono l'apice della catena alimentare, sono quelli che stanno sopra tutto, sono i più popolari, sono i più influenti, sono quelli che contano, sono quelli che, e sono anche quelli che spesso bullizzano di più gli altri, quindi molto spesso quando ci sono queste stragi, se ci fate caso, vengono targhettizzati, vengono presi di mira proprio la categoria degli sportivi, poi magari in mezzo lì c'era un poro disgraziato che giocava tennis per i cazzi suoi, non faceva del male a nessuno, viene ammazzato anche lui, però viene presa proprio tutta la categoria degli sportivi, ma ancora più spesso è semplicemente a caso, si entra dentro la scuola e chi ci si para davanti, si fa una strage, è molto interessante, molto significativa, per esempio la più famosa di tutte, la strage di Columbine, da cui ci hanno fatto dei film bellissimi, se non l'avete visto c'è Elephant, io ve lo straconsiglio, è un film strepitoso, purtroppo non ricordo il regista, adesso su dei piedi, no, non me lo ricordo, ho un nome in mente ma non voglio dirvelo perché probabilmente è una cavolata, non è lui, comunque Elephant si chiama, scrivete tipo Elephant Columbine, lo trovate subito, è un film molto bello, a me è piaciuto molto, che fa vedere un po' i due ragazzi che hanno compiuto quella strage in un'ottica un po' particolare, veramente interessante, però insomma c'è un aspetto molto particolare, perché vi ho preso Columbine per esempio, come esempio e non una delle centinaia di altre stragi scolastiche fatte negli Stati Uniti, non perché è la più famosa, ma perché c'è stato un evento particolare, questa strage venne fatta da due ragazzi, tra l'altro due ragazzi molto particolari, c'è veramente tanto da imparare su di loro, sul loro passato, sulla loro personalità, su cosa li ha portati a fare quello che hanno fatto, eccetera, eccetera, ma insomma sono stati in due a fare questa strage insieme e la loro idea era proprio fare un massacro senza badare a nessuno, cioè proprio ammazziamo tutti e tutti. Il giorno prima si sono incontrati fuori dalla scuola, si sono incontrati con un ragazzino che in realtà è sempre stato buono con uno dei due, ok? È sempre stato buono, gentile. Loro l'hanno preso, l'hanno portato da parte e gli hanno detto, senti un po', tu domani non venire a scuola, fidati, tu domani non venire. Pensate che quella era un'epoca quando è successo che, sì, c'erano ovviamente le stragi scolastiche, ma non con i ritmi moderni, la cosa non era popolarizzata, quella è stata la prima grande e grossa strage scolastica. Prima di allora c'erano stati incidenti, ma non delle vere e proprie stragi. Scusate, la gola comincia a cedere. E insomma, quindi lui non ha capito bene, cioè non era sicuro di quello che stava succedendo, del perché questi gli avessero detto così, ma fatto sta che ha deciso di ascoltarli e il giorno dopo non è andato a scuola. E' ben per lui, perché è sopravvissuto, sono morte veramente un sacco di persone. Se non mi ricordo male a Columbine sono morti tipo 24 ragazzi e due o tre professori, una roba veramente allucinante. Ora non prendetemi in parola con i numeri, perché ho approfondito l'argomento diverso tempo fa e non mi ricordo i dettagli specifici, ma insomma una roba veramente grossa. Ma perché? Perché gli è andata male. Nel senso, è andata anche troppo bene, ma è andata male perché loro avevano preparato anche delle bombe all'interno della scuola che per fortuna non sono esplose, perché se fossero esplose avrebbero fatto veramente l'apoteosi del massacro. Quindi sono morte solo persone per colpi d'armi da fuoco, perché le bombe non sono esplose, ma se così fosse stato sarebbe stata veramente la fine. Però perché vi ho detto questo? Perché anche qui c'è un esempio clamoroso di una persona che viene intenzionalmente risparmiata. Cioè lui gli viene proprio detto, te domani non venire a scuola. Perché se vieni c'è il caso che le bombe, cioè, ti ammazzano. Io so anche se non ti voglio sparare, però non ti sparo, ma esplode le bombe e tu muori. Quindi tu non venire a scuola, capito? Tu no, gli altri sì. C'è una selezione dei bersagli qua, sebbene minima. Perché vi stiamo parlando semplicemente di una persona che viene esclusa perché... non tanto amico, perché sti due alla fine non avevano più amici, ok? Non si può più parlare di amicizia là, non ce li avevano più un giro di amici. Ma di persona che non ti ha fatto del male, di persona che... tra virgolette ti vuole bene, ti fa del bene, e tu la risparmi. E questo la dice di gran lunga sulle motivazioni che ti portano a fare una roba del genere. Per questo è molto interessante. Però è un caso un po' particolare questo. Molto più spesso, come vi dicevo, la rabbia raggiunge un livello tale in cui tutti diventano dei nemici, tutti diventano dei bersagli e chi ti si para davanti lo si ammazza. Punto. E basta. Questa è la furia cieca del sofferente, capite? La furia cieca del ferito. E non ferito fisicamente, del ferito psicologicamente a un livello profondissimo. Anche ovviamente malato, disturbato e tutto ciò che ne consegue, ovviamente. Ma tutto quel dolore, tutto quel sopruso costante e continuo poi porta, come vi dicevo, a non provare più solamente rabbia verso la persona che ti causa questo dolore, ma un po' per tutti, a prescindere. Semplicemente per il fatto che tu stai male, loro no. Loro sono felici, tu no. E quindi ce l'hai anche con loro, anche per questo. E Eddie questa cosa la rispecchia molto. Lo si nota, perché alla fine, ammettiamo che è stato Eddie ad uccidere queste persone, ok? Quindi mente. Non è vero che lui è arrivato, erano già così. Lui li ha uccise, lui. Uso il plurale perché questa nel tavolo e quella nel frigorifero all'interno degli appartamenti. È il classico, che gli hanno fatto? Gli ha fatto niente nessuno, ma chi se non cula, Eddie, capite? Ma che gliene frega a queste persone di Eddie? È proprio quel discorso là, no? Tu mi guardi, io ti sparo. L'ha detto anche lui, eh. Siamo a quei livelli lì, siamo. È una cosa molto, 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 molto comune. Mamma mia. Mamma mia, che bella quella croce. Abbiamo l'armeria con un salvataggio, mi sa. Eh sì, ho visto il bagliore rosso. Il fucile da caccia. Guarda che bel bolt action che abbiamo qua. Ci vuole una chiave. Non l'hanno ancora trovato. La chiave dell'armadietto supponiamo che uno dei detenuti l'abbia presa. Prendi quella di riserva dal controllo testimoni e tieni il fucile al sicuro, prima che lo prenda qualche malintenzionato. Oh, la mappa, la mappa. Ok, sembra primo piano, molto semplice. Sezione serpente. Questa cos'era? Sezione principale. E poi abbiamo la sezione serpente. che è sempre il primo piano, però. Prigione di Toluca. Secondo piano. C'è un toro. Oddio, si è sentito un grido. Sezione cinghiale. Terzo piano. Semi interrato. Non c'è la sezione... Allora, quindi abbiamo il serpente, il cinghiale, e poi lì c'è un bufalo o un cigno. Un cigno, un volatile, comunque un uccello. Difficile dire quale, ma... Ma che cazzo? Ma che suonisce in questa prigione? Mamma mia. Perché anche lì mi aveva incuriosito il fatto dei tre animali. Abbiamo, come al solito, tre pazienti speciali, tre personaggi principali, tre animali. Quindi ci sta che si riferiscano a loro. Tra l'altro il serpente... Questi sono i proiettili... Uhuhuhu... Cinque e cinquantasei. Il serpente era già riferito... Non proprio riferito a James, ma comunque presente lì in tutto quell'Ambaradam dell'enigma di James. Quindi ci può stare che abbia a che fare con James. Però vediamo se troviamo altre mappe con altre sezioni speciali o quasi così. Quindi adesso inizia in maniera vera e propria la prigione. Questa è stata un'introduzione alla prigione. Adesso abbiamo da fare un nuovo livello, se vogliamo. una nuova area che è una delle più inquietanti e difficili del vecchio Silent Hill, perché quando la si giocava a difficoltà alta questa era pazzesca quanto era difficile. Secondo me è la zona più difficile di tutto il gioco, anche peggio di quelle successive. Quindi vedremo un po' qua come l'hanno fatta. Io adesso salvo la partita qua. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima, dove esploreremo tutta la prigione di Toluca. Grazie a tutti. Grazie a tutti.